La caccia al leader è incessante e continuerà fino a quando centrodestra e centrosinistra non avranno individuato l'uomo o la donna capaci di garantire quel valore aggiunto necessario per vincere le elezioni. In attesa del Messia i tavoli partoriscono i primi nomi. Nel centrosinistra i papabili al momento sono Vittorino Facciolla, Micaela Fanelli, la new entry Candido Paione, Angelo Primiani e Vittorio Nola. La sensazione è che si tratti di apripista, nomi messi sul tavolo per iniziare un ragionamento che dovrà portare a individuare l'assopiglia tutto. I profili giusti sarebbero stati individuati e contattati. Un uomo, per il nome bisognerà attendere qualche giorno, e una donna, Alessandra Salvatore. L'elenco dei pretendenti al ruolo di candidato presidente del centrodestra è invece più lungo della lista della spesa settimanale di una famiglia media in ordine sparso. Nicola Cavaliere, Francesco Roberti, l'uscente Donato Toma, Alfredo Ricci, Vincenzo Niro, Filoteo Di Sandro, Quintino Pallante, il rettore Luca Brunese e Michele Iorio. Non è da sottovalutare poi la componente femminile. Nelle ultime ore sarebbe tornata in auge Tecla Boccardo, gradita ad Aldo Patriciello, azionista di maggioranza della coalizione.